Ciao a tutti, questo è Francesco Yoshigambo da Italia e sono un youtuber dal 5 aprile 2007. Oggi esprimeremo la mia pagina di Youtube Se sono live, dovete trovare la mia stream, ma se non è diventata in playlists Questo è il G-Production 1, in cui ho avuto video in cui ho lavorato Per esempio, questo è il progetto Misaki, è molto bello, ma è solo un link, perché non è di me Questo è il folder Vemolink, in cui dovete trovare video che ho amato Perché se guardo un video che mi fa sentire molto bene, molto buono o qualcosa di altro, ho avuto un video con i miei sentimenti Quindi ho linkato il video in cui tutti lo vedono VLOG ITALIANI, perché sono italiano e anche un vlogger Quindi per i miei amici italiani VLASH VIDEOS, se non avete tempo e voglio vedere qualcosa di me Upload video in 17, 16, 40 secondi o 12 Oh, guardate Banana Boomerang, è buono Channel Collaborazioni, perché mi piace collaborare con altri youtubers Questo è l'happiness collab 1 e mi piace partecipare perché è tutto il mondo FRIYOSHI, auguri, wishes, holidays, festivities Perché a volte faccio un wish a miei amici, a miei amici Quindi se vuoi vedere qualcosa del mio Merry Christmas, guardate Merry Christmas Tutorials Non è il mio corso principale per il channel Ma a volte lo faccio FRIYOSHI YouTuber, perché a volte lo faccio qualcosa che non è professionale Per esempio, Paletti Strangemane O per esempio, all YouTube Channel Heart, che mi amavo Oh, l'artistica vita L'artistica vita L'artistica vita A volte non parlo molto bene, quindi ho sempre subito i miei video In inglese L'artistica vita è perché sono un dancer, un actor E a volte un cantante Quindi, questi sono i miei video di cui ho appare Quindi ho linkato, quindi ho messo E questo è tutto, tutto Mi puoi trovare anche su Google Plus Questa è la mia pagina, la mia ultima video E queste sono le mie collezioni Se vuoi seguire, mi puoi seguire su YouTube O per me seguire su YouTube O per me seguire su Plus O per me seguire, potete trovare tutto quello di me cliccando questo link All about me